Sarà la città di Napoli a lanciare per prima in Italia la nuova carta di identità elettronica al via per il momento nei quartieri Chiaia San Ferdinando e San Giovanni a Teduccio. È un supporto innovativo, disponibile da novembre in tutte le municipalità, che ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotato di un microprocessore a radiofrequenza contenente tutte le informazioni sul cittadino, comprese foto, impronta digitale ed eventuale consenso alla donazione degli organi. Questa mattina al PAN se ne è discusso con esperti ed amministratori di diversi comuni in un seminario sulle novità degli strumenti anagrafici. Siamo molto orgogliosi di questo perché è il segno della capacità della nostra amministrazione, della voglia e la competenza e la qualità di innovarsi, di farlo insieme alle altre istituzioni dello Stato ed è ci siamo fatti trovare pronti, siamo partiti e adesso cercheremo di dimostrare che Napoli in questo momento è in prima linea anche sotto il profilo dell'efficienza amministrativa nella sfida dell'innovazione, dell'informatizzazione e delle tecnologie nel nostro paese. A differenza di quelle precedenti, la nuova carta di identità elettronica è già predisposta per l'autenticazione in rete, consente quindi la fruizione di diversi servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e l'acquisizione dell'identità digitale. Sarà consegnata da poste italiane direttamente al domicilio del cittadino entro sei giorni lavorativi ed ha un costo complessivo di 22,21 euro.